Grazie a tutti No, da di calci, poverino Chiara, non dà i calci a Satana Ecco, hai visto? C'è stufato? C'è stufato? Befana, tu ritiri i calci Come vai? C'è stufato? Ciao Cucu E lo scorso weekend siamo andati a quassi in Egipto e non trovata lì Una vera sicurità? È successo? Sì, qualche volta Una verina, insomma, ha scoperto dentro? Grazie a tutti